amici di youtube ben trovati da nicola corvino in questo video vi voglio presentare le uscite in edicola di luglio 2018 il primo luglio è uscito l'inedito numero 857 la prova decisiva in copertina c'è una donna e due mani che la stanno strangolando poi il 10 luglio uscirà il numero 685 idee rubate in primo piano c'è evagent è diabolica al lavoro vicino a una cassaforte ma è scattata anche all'allarme come si può evadere dai raggi laser in copertina poi il 10 luglio cioè il 20 luglio scusate uscirà al di sopra di ogni sospetto è il numero 290 e in copertina c'è un uomo con del sangue che discorre sul viso e una pistola magari hanno simulato un suicidio idee rubate è uscito per la prima volta il primo marzo del 2004 invece al di sopra di ogni sospetto è uscito tanti anni fa il 26 maggio del 75 mentre la prova decisiva è l'inedito di luglio quindi è nuovo in questa storia è stato accusato lo zio di altea di un terribile omicidio il generale von waller eccolo e in questa storia anche indirettamente è implicata anche diabolica ed eva ho voluto anticipare quest'anteprima perché il video della storia lo farò o stasera o al massimo domani perché il mio regista è assente io avevo bisogno di lui per inquadrare le scene del fumetto perché è una storia veramente molto avvincente quindi ciao a tutti da nicola corvino vi auguro una buona domenica e una buona serata ciao ciao a risentirci ciao a risentirci